Marco Di Lungo, ho saputo che i procuratori nella Pala Nuoto sono pochissimi e rarissimi. Non avete neppure il manager, quella Andrea Vidotti di cui le parlavo segue molti. Anni fa per Stile, il mensile del giornale, all'epoca Stile, oggi Stile, intervistai parecchi personaggi e spesso, varie volte, mi interfacciai con DAO, DAO Management, insomma anche solo la mail è cambiata negli anni. Forse sbaglio, ma potrei dire che Tempesti secondo me era in quel circuito, non che lo intervistai tramite loro, ma magari vidi su internet. Lei ad esempio è seguito da qualcuno, come dire, fuori dall'acqua o stop proprio, fa da solo? No, no, io sono procuratore di me stesso. Ma quindi anche, ma non mi dica che nessuno mai le sia avvicinato per dirle... Certo, certo. Ah, ok, ok. Ah, ok, però preferisce fare da solo. Sì, sì, sì. Invece Marco ha studiato? Io mi sto laureando in scienze dell'attività al motore sportive, ad ottobre mi dovrei laureare. Dove? Ho fatto l'Università Telematica Pegaso, che mi ha permesso di continuare gli studi e di poter laurearmi in questa materia. Oh, chiedo sempre, nei giornali veri, quindi a maggior ragione da me, ha già pensato al dopo Pala Nuoto? A parte che col metro di Tempesti direi che ha 12 stagioni ancora. Beh, oddio, ancora no, forse me lo sto creando da solo, cercando anche di diventare un preparatore specializzato nei portieri, che sicuramente è una figura che manca nel nostro sport. Ad esempio, Marco, la Prorecco, che aveva la scorsa stagione, mi aiuti, Tempesti più un portiere straniero. Chiaccio. Ecco, lì, loro si allenano, cioè li allenava Rudic o avevano uno specifico come nel calcio? No, no, veniva allenato anche lì da Rudic. Ah, quindi faceva tutto lui. Rudic non era un portiere? Sì, Rudic, come tutte le altre squadre, anche noi del Brescia, veniamo seguiti da un preparatore atletico. Sì, però non è un preparatore dei portieri specialista? No, 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 no. Quanti siete in rosa dei portieri a Brescia? Due, tre? Siamo, vabbè, io e altri due ragazzi giovani. Ah, quindi, ma poi entrano ogni tanto a partita risolta o neanche il secondo? No, 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 vabbè, entrano a partita risolta. Invece, Marco, com'è Brescia? Adesso mi vado a vedere perché rischio di fare confusione. C'è, come si chiama, Management, che è di Verona ma gioca in Lombardia o qualcosa del genere. Brescia è una società veronese che ha molte strutture, tra cui molte piscine, e una di queste è quella di Bustarzizio. Ah, ecco, quindi giocano là? Giocano là, sì. Perfetto. Invece Brescia, adesso l'ho presa, è una società anche di notevole tradizione. Un giorno cercherò anche Alessandro Bovo, sto guardando la vostra rosa. Chi c'è di campioni del mondo? Presciutti era in rosa, sì? Sì. Quindi siete lei, lui e Zeno Bertoli anche, difensore. No, questo non è campione del mondo. E poi Centro Boa, un greco. Vediamo se... sì, la rosa 20-21. Alesiani, mi aiuti, è stato in azzurro comunque, ormai? Sì, 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 è nell'ambito della nazionale. Esatto. Quindi è la seconda di fatto forza, no? Ricordo un pareggio, una partita ai rigori, non so se è in Coppa Italia. Sì, esatto. Diciamo, è l'unica che... ma aveva poi vinto Brescia o Prorecco quella volta? No, aveva vinto la Prorecco. Ah, perfetto. E quindi è stata la volta che la Prorecco è andata più in difficoltà in Italia, l'unica praticamente, no? No, ci sono state tante altre situazioni in cui abbiamo dato un filo da torcere alla Prorecco. Però ne è venuto fuori sempre all'ultimo. Non è che la Prorecco ha avuto sempre questa autostrada davanti che vince sempre facile. No, no, intendevo solo questo. Sul piano dei risultati il monopolio è stato spezzato, forse da altri, ma vedo che in Bacheca ci sono un campionato 2002-2003 e una Coppa Italia 2011-2012. Adesso riprendo anche la carriera di Marco per vedere da quanto è lì. Ah, esattamente, dal 2011 per l'appunto. Quindi da Civitavecchia a Enne Brescia. Ma all'epoca... ah, quindi ha vinto la Coppa Italia già da titolare, Marco? Sì, sì. E quindi tutti questi anni evidentemente da titolare, vero? Sì, 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 sempre da titolare. A Civitavecchia invece, a quanti anni è diventato titolare? Era a due? Sì. Sì, ho iniziato ad orbitare nel giro della prima squadra all'età dei 15 anni. E la Civitavecchia era appena salito in A1 e l'allenatore Baglierini mi voleva con lui perché mi vedeva già nel giro anche delle nazionali giovanili, quindi voleva che mi allenassi con lui. Ecco, il primo campionato da titolare quanti anni aveva? Fu in A2 e quindi che anno era? 18 anni aveva nel 2008. È stato il più precoce nella storia dei portieri? Non so, tra uno o due c'è stato qualcuno titolare prima dei 18 secondo lei? Ma non lo so, forse magari qualche ragazzo più giovane perché magari le società non avevano budget per comprare dei portieri. Ah, quindi magari società che hanno rischiato la retrocessione o magari quel tipo di situazione. Invece, Marco, com'è la preparazione alla partita? Le faccio un esempio. Il giorno della partita, a me hanno detto spesso, io sa facendo i video, anche cose lunghe, sono qualcosa di molto particolare. Però, per esempio, sono stato al basket un anno fa a un torneo a Trento, poi a Verona, non ricordo bene. Mi hanno detto, l'ha detto il capo ufficio stampa della federazione, mi ha detto Vanni il giorno della partita no, poteva essere magari ieri o l'altro ieri. Il giorno della partita, prendiamo quella di campionato, Brescia. Quali sono, Marco, le distrazioni che evitate? Che so, quindi c'è il rito, ma per esempio al mattino se giocate in casa, quindi a Brescia, voi non andate in ritiro, lei fa colazione a casa? No, no, sì, vabbè, non è che abbiamo tutte queste possibilità di permetterci di fare un ritiro, ecco, noi abitiamo. Lei ha colazione a casa, pranzo a casa. E poi la piscina. Sì, quella partita cos'è? 17, 17 e 30? 18. 18. Ecco, quella giornata, da quale minuto tutti sanno di non telefonarle, non so, due ore prima, tre ore prima, meglio neanche un messaggio, meglio neanche un whatsapp? Parliamo di, non parliamo di finale scudetto, parliamo di campionato normale. Due giorni prima. Veramente? Sì. Vabbè, ma perché lei che è speciale. No, 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 non voglio sentire nessuno al di fuori di mia moglie. Ma neanche gli altri dice? No, neanche gli altri inteso, anche altri colleghi ragionano come lei? No, vabbè, ci sarà qualcuno che pure i cinque minuti prima sta al telefono, però per come sono fatto io non ci riesco. Ma quindi questo la Ju, beh, credo sia il primato, cioè questo è il primato. No, perché le ripete, vabbè, sarò io che, vabbè. No, vede, ad esempio, sono stato al mondiale di scherba, ma non sto scherzando, Aldo Montano, che ormai è a fine, no? No, classe 78. Altro che se io sono distratto dal resto. Lui si tratteneva nel negozio delle armi. Abbiamo parlato un'ora, purtroppo mi ha chiesto senza video. Dopo, sì, mi hanno detto, dopo non c'è problema. Prima meglio evitare. Però due giorni prima, beh, è straordinario. È l'emblema della professione. Ma questo, facciamo un esempio rovesciato. Immagini invece che lei fino a cinque minuti prima, quindi spazi a tutti. Quanti gol in più prende, Marco? Beh, parecchi, parecchi di più. Veramente? Parecchi di più perché io mi preparo anche dal profilo psicologico che mi aiuta meglio a prepararmi alla partita. Ma anche lì fa da solo o ha un mentalista come Bruna Rossi, che un giorno vorrei anche sentire? No, no, anche io sono stato seguito da uno psicologo della sport che mi ha aiutato anche nel mio percorso di crescita e mi ha aiutato anche a migliorare sotto tanti, tanti esperti. Sicuramente è stata una figura importante che mi ha aiutato a crescere notevolmente. E adesso fa da solo invece? No, 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 sono ancora seguito. Ecco, ma prendiamo invece viceversa se io anche solo avessi visto tutto, tutto in tv il mondiale, no? Un mondiale straordinario, so. E lì che atmosfera c'era? Anche lì, a maggior ragione, Marco chiedeva di evitare le distrazioni già due giorni prima, forse tre. La parte che si giocava tutti, un giorno sì, un giorno no, no? Sì, sì, sì. Beh, guarda, all'interno della nazionale ci sono delle regole molto ferre che devono essere rispettate. Ovviamente cercare di evitare… Ci sono dei momenti in cui si utilizza il telefono, magari per sentire le famiglie, mogli, fidanzati, figli e quant'altro. E altri momenti in cui si spegne totalmente il telefono o quantomeno lo si mette in tasca, lo si pone e si pensa soltanto alla partita. Anche, per esempio, a tavola non deve essere mai utilizzato quando si sta in gruppo, ma soltanto quando uno raggiunge la propria camera, che ha quei 10-15 minuti e lo utilizza soltanto lì. Beh, non pensavo. Ricordo Meo Sacchetti, il CT del basket, che proprio a un evento con i giornalisti raccontava, io non c'ero, ma l'ho letto, che appunto non è facile staccare gli atleti dallo smartphone. Beh, assolutamente. Non pensavo, Marco, sa perché? Perché nell'immaginario collettivo, cioè io ho percepito questo, parlando non per il mio giornale, dove parlo anche per ore, dipende dalla persona. Però, per testate nazionali, il messaggio era questo. I calciatori guadagnano infinitamente più di noi. E quindi io pensavo, Marco, che amiche per me, come sono state, Elisa Rigaudo, la marciatrice, Sefi Idem, ecco, questa impostazione così ferrea non fosse così ferrea all'insegna di questo, Marco. Ecco, beh, guadagniamo di meno, siamo meno popolari, almeno ci godiamo la vita, godersi la vita, lei può immaginare, vuol dire… Beh, questo ti devo dire è un ragionamento un po' sbagliato, perché se uno vuole ambire a un determinato livello, a un determinato obiettivo, qual è la vittoria, ci sono determinate regole da seguire che sono imprescindibili. E quindi c'è bisogno proprio appunto di seguire alla lettera queste lettere per cercare di creare soprattutto gruppo in uno sport di squadra, ma in uno sport singolo sono fondamentali per arrivare alla vita. Ma quindi non è un'eccezione lei, secondo lei sì, ci può essere, mi ha detto quello che parla il telefonino anche prima, però il focalizzare l'obiettivo lo fanno in tanti, ai massimi livelli. La Prorecco, che continua a vincere, lo fa più di altri, forse hanno una rosa tale che almeno in Italia magari possono abbagliare. Loro hanno un potenziale economico notevolmente superiore rispetto alle altre squadre, è quello che è stato sempre la forza che li ha portati e che li fa rimanere tuttora in alto. In serie A, Marco Dellungo, fra i titolari o fra le rose, non le chiedo magari il nome e cognome, però ci sono non professionisti, ovvero studiare è un conto, un lavoro manuale è un altro. Io quando Umberto Panerai mi ha spiegato che è sempre stato, aveva un negozio della Piaggio, non ricordo bene perché non l'ho riascoltato, quasi non ci credevo, ma non un anno o due, ma sempre. Quando Lili Bernardi del volley, anni Ottanta, la Teodora Ravenna vinse 11 Champions League, Coppa dei Campioni, ma lei ha sempre fatto un altro lavoro, lavorava da spedizioniera, dove lavora tuttora, faceva, non so se contabilità, non ricordo bene. Oggi i primi sette di tutta la Serie A al massimo studiano? Al massimo studiano, sì. In A2? In A2 già, ma già le squadre che lottano per la salvezza, ci sono già giocatori che fanno la doppia professione. Macchina 1? Sì, sì. Ma tanto più tra il nono, decimo, undicesimo, quelli che giocano poco. Sì, sì, appunto quelli che lottano per la salvezza. Ma c'è una professione, senza magari dire, come dire, per rispettare, non dico la privacy, ma insomma per evitare di, come dire, una nota stonata da parte nostra. Non c'è una professione curiosa, per curiosa intendo molto distante. Per esempio, io sono figlio di contadini, l'agricoltura è bellissima, adesso la rivaluto quando ero bambino, io me ne vergognavo. Dico, non c'è una professione molto distante, che so, l'elettrauto, l'elettricio, un qualcosa di molto, molto lontano. Non le viene in mente nessuno, Marco? Ma che io sappia, no. E comunque i più studiano, dunque, come lei? Sì, 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 i più studiano e cercano di crearsi magari un futuro diverso da quello del mondo sportivo. Chi studia giurisprudenza, chi studia economia e commercio, chi addirittura ha intrapreso strade diverse, come per esempio quella della medicina. Quindi ci sono tanti e tanti ambiti che i pallonatisti hanno seguito per cercare un futuro, perché ovviamente sappiamo che lo sport arriverà fino alla fine nel nostro arco della vita. Quindi cercano di ottenere un'altra strada prima. Prima Marco Dellungo ho passato un'ora con Franco Bertoli, l'ex mano di pietra del volley, e abbiamo dedicato un passaggio al libro di Chiellini, che non ha parlato in termini positivi, per essere leggeri, di Balotelli, ancor meno di Felipe Melo, e stanotte è uscita una roba su un'anticipazione che riguarda Vidal. Nel vostro mondo non ci sono queste divagazioni, inteso Vidal che ha l'obbi della bottiglia, quindi degli alcolici, e adesso non ricordo perché non ho approfondito, non so perché Felipe Melo sia il peggio del peggio, comunque insomma sono parole forti. Dico, nel vostro ambiente c'è magari uno che potrebbe saltar fuori sul finire della carriera e scrivere un libro di fatto evidenziando i talloni d'Achille degli amici, dei colleghi, ma a me non ha fatto impazzire questa cosa, perché con lo stesso metro, vabbè, Chiellini è ancora l'apice, io potrei fare un libro dove dire, io che ho lavorato, ancorché in remoto, con X giornalisti, X capi servizi, vi rivelo la vera faccia di, credo sarebbe un pizzichino meschino da parte mia, però lasciamo stare. E dico, il vostro quindi è un ambiente senza queste distrazioni così, insomma, il Vidal, il bevitore di alcolici... Per carità non è che anche noi siamo perfetti, magari ecco, una bottiglia di vino ce la facciamo, non è che è quello, però non è che andiamo fuori... Ma credo che fossero gli alcolici, adesso non so bene, però insomma la risposta di Vidal è stata, guarda se vieni con me stasera, vedi il mio segreto, quindi lui beveva, lui ha bevuto quattro gin tonic Chiellini lisci, ma poi ha vomitato, io che ho la gastrite, appena lo metto in bocca sarei in difficoltà, però insomma l'alcolico è una roba diversa, insomma. Ma ad esempio il terzo tempo c'è nella palla nuoto? Con gli avversari, con i tifosi, con Menerarby o no? No, no, assolutamente no. Ma voi andate a casa, a cena, andate in pizze? Dipende se vincete o se perdete, come fate di solito? Ma no, no, dipende dalla persona di per sé e come è abituato anche a reagire. Marco mi indica i papà, quella notte a Genova o a Bologna, non ricordo bene, io vidi la famiglia Tempesti, quindi c'era la moglie con, non so se fosse figlia o figlio, non ricordo, quanti degli azzurri, degli ex, ancora in attività, sono papà? Chi deve viene in mente? Tanti? No, se sono tanti no. Beh, no, sono tanti ancora. Sì? Sì, sì. Quindi è diverso magari tra le atlete, tra le azzurre, le mamme, forse nessuna, vero? Beh, sì, sì. Secondo me è un po' più difficile essere mamma che essere papà, perché il bambino o bambina ha un contatto molto più diretto con la madre, soprattutto i primi mesi di vita del bambino, quindi porta un allontanamento dal mondo sportivo. Per il papà posso dire che è un po' più semplice. E invece lì a Brescia abita da solo, Marco? Con mia moglie. Ah, è sposato quindi? Sì, sì, sì. Da quanti anni? Sono due, no tre, scusa. Quest'anno tre. Mi raccontavo un caro amico con me ospite in tv a Teleducato Piacenza un po' di anni fa, Patrizio Bonafè per un mensile, forse proprio stile del giornale, style del giornale. All'epoca mia, quindi anni 70, le società sportive consigliavano gli sportivi di sposarsi per appunto limitare le divarazioni, insomma, l'attenzione alla ricerca, le avventure, eccetera, eccetera. Nella pallanuoto avviene o avveniva questo? Nessuno l'ha incitata a mettere la testa a posto, insomma, a velocizzare il matrimonio, a stabilizzare le storie? No, ma assolutamente no. Uno se lo deve sentire appunto deve trovare una persona giusta che sia al fianco del giocatore perché la vita dello sportivo non è una vita semplice perché è condizionata da tanti problemi e soprattutto fa grande stress. Uno dice, è bello, sì, un bel fisico, tutto quanto, però ci sono tante, tante, tante cose dietro e trovare la persona giusta non è semplice. Io sono stato fortunato perché mia moglie è molto compressiva sotto questo punto di vista e mi aiuta e mi sprona sempre a dare di meglio. Ovviamente, anzi, quei tempi che corrono, prima dei 40 anni, non si sposa adesso più nessuno. E infatti, sono rimasto sorpreso. Ma è laziale? Sì. Ah, quindi non è bresciana? No, no, la mia moglie è romana. Ma era precedente, quindi la conosce da tanto? Sì, 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 al 2014. Che lavoro fa? Lavora in banca. E non è già mamma, vero? No, no, no. Lavora in banca a Brescia, quindi? Sì, 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 a Brescia. Non è un atleta o un ex atleta? No, lei ha fatto sport, sempre ha fatto nuoto, però non a livelli agonistici. Marco, se chiedessi ad Alessandro Campagna le differenze fra l'uno e l'altro tipo di allenamento, cosa mi risponderebbe? Rossandro l'ho fatto a Reggio Emilia, venne a un evento, ci siamo visti al Festival di Trento, l'avevamo fatto molti anni fa, quando vinse il titolo del 2011 per il giornale. Oggi, insomma, magari che è un personaggio così esposto, con Sky, almeno con me limita parecchio. Ecco le differenze principali, uno è sotto pressione 200 giorni d'anno, l'altro magari due mesi d'anno, però? Però il vero fatto è che gestire e creare una squadra in due mesi e mezzo non è semplice, perché c'è molto meno tempo e c'è bisogno anche di molta più rigidità ed essere molto più severo sotto determinati aspetti e indulgente. Durante l'arco invece di un campionato, di una stagione, magari c'è molta più libertà e molta, diciamo, più tranquillità per la gestione del gruppo. Invece, quindi Marco, la prossima sarà comunque la sua prima Olimpiade da titolare. È snervante aspettare un anno di più? Sì, è snervante perché non volevamo giocare quest'anno, però ovviamente non si è potuto e lo prendiamo come un anno di crescita tutti quanti, per essere più forti e ancora di più. Quando è che avete temuto? Fino a quando avete sperato che ci fossero state? Una settimana prima del pronunciamento? Beh, fino a quando non si è stato detto, perché ovviamente uno spera che una cosa non venga mai sospesa o rimandata in questo caso, perché uno si allena a quattro anni e poi dopo la si vede rimpiata di un anno e dice, cavolo, però vabbè, purtroppo è andata così e bisogna andare avanti. Marco, mi aiuti, c'è stata la Coppa Italia già quest'anno? No, purtroppo doveva essere fatta. Ah, quindi un anno se c'è nulla proprio, senza un solo trofeo, zero titoli avrebbe detto Grigno. Morini, sì. Fantastico. Senta, ma non sarebbe bello anche solo dare il titolo, cristallizzare la classifica? Intanto ci sono retrocessioni, com'è finita? No, sono state bloccate le retrocessioni, nessuna sensazione di nessun titolo. Ma e le promozioni non si fanno? No, purtroppo no, sono state bloccate anche quelle. Beh, anche quelli. Direbbero Roma a Poracci, no? Perché il trofeo è un conto, però lavori un anno. Chi è che era primo in A2, Marco? Il girone nord è la Metanopoli e penso per il girone sud di A2 c'era o Anzio Latina con Catania. Metanopoli di dov'è, mi perdoni? Milano. San Donato milanese? San Donato, sì. Ah, invece il campionato italiano è il più bello del mondo, è il più, come posso dire, ha le stelle migliori. Io ho discertato spesso anni fa di volley con non c'è più adesso Bebeto, l'XCT. Un giorno mi telefonò quando l'Italia andò male di Berruto al Mondiale e mi disse, ma io vorrei capire cosa è successo, perché mi continuava a ripetere, era l'NBA del volley mondiale. C'erano il primo, il secondo e il terzo testetto di tante nazionali. Qual è il miglior campionato? Non credo l'Ungheria o la Grecia. No, però devo darti contro, perché negli ultimi anni è stato... Sopro l'Ungheria e la Grecia, sì? No, no, greco. No, la Spagna. No, 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 il campionato ungherese è stato quello, questi anni, che ha fortemente caratterizzato anche il mercato internazionale, quindi portando anche da loro molti campioni, perché loro avevano anche delle agevolazioni statali che permettevano degli ingaggi notevolmente superiori. Gli italiani non sono mai andati in Ungheria, vero? Qualcuno, ma non in squadre così alte. Neanche degli azzurri o degli azzurabili, quelli nel giro? No, nessuno, nessuno di loro. Quindi adesso i primi tre campionati al mondo quali sono? Ungheria, Italia e Spagna. Ma che non pensavo, perché normalmente laggiù hanno qualche sponsor di meno. Invece alla voce Magnati, in Italia abbiamo mecenati, poi è una cosa simile, quelli che investono tanto. Gabriele Volpi, di sicuro, ma altri che mettono i soldi loro, perché, sa, ci sono polisportive o cose diverse in cui mettono i soldi in 28. La Virtus Bologna, ad esempio, anni fa, il Bologna prima di Gioi Saputo. Chi sono i più generosi, proprio i singoli o le famiglie oggi? A Brescia è la famiglia Bonometti che... Ah, è quella del basket anche o sbaglio? No, forse sbaglio. Cos'è? Acciaierie Bonometti, mi aiuti? No, Officine Meccaniche Rezzadesi. Perfetto. Che altro sport fanno? Solo il vostro? No, fanno la Formula 1 anche. Ah, mi scusi. È lo sponsor della Ferrari. Ma il marchio qual è? OMR. OMR. Beh, siamo a 100 km da Reggio, ma le confesso. Eppure io seguo tanto. Seguono anche il calcio, la panacanestra, un sacco di sport a livello cittadino bresciano, quindi... Esatto, quello, ma il Bonometti è il finanziatore anche del basket La Leonessa? No, sì, sì, in parte. Non è il main sponsor. Beh, vabbè, vabbè. Ma non è, come dire, in società però, vero? No, 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 no. Qualcuno mi pareva che me l'avesse...